Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, abbiamo lo surprise, si che bello! Oddio, si è ammazzato? Si è ammazzato? Allora, dopo ve lo dico, finalmente torniamo con una nuova apertura dei confetti pop, si che bello! Allora, per questo magico evento, magico perché? Perché è magico? Perché l'apertura di una log confetti è sempre magica. Però, oggi ci facciamo accompagnare da... Silente! Sì, sono qui! Per aiutarla, tavarinda! Grazie, Silente, portaci un po' di magia e fa che trovo una rara, grazie! Sì, speriamo! C'è i miei dubbi, però. Poi, oltre a Silente, c'è... Pastel, ciao! Carina la nostra Pastel, poi c'è... Immancabile! Maria Antonietta, ciao! Poi c'è la nostra... Eh, come si chiama questa? Madame Queen? Non mi ricordavo più, oddio, mamma, ammazza! Sì, come fai a ricordarti il mio nome? Oe, stai tranquilla, bella! Eh? Madame Queen, ciao! Poi abbiamo Sleeping BB, questa per forza ci deve essere perché è l'unica che cambia colore, appena ne troviamo un'altra che cambia colore, questa parte... Parte, va a dormire per sempre. E poi ci abbiamo la New Entry, Sprint, che ce la si è portata perché è la New Entry. Non per altro. Va bene. Momento checklist. Allora, visto che adesso abbiamo tutta la gente bella qua che ci fa compagnia, no? Per trovare la LOL, passiamo al momento checklist. Allora, sono sempre qua. Io vorrei trovare Go Go Girl. E ancora... Vabbè, lo sappiamo, no? Poi vorrei trovare Angel, che mi piace. Questa l'abbiamo già trovata, finalmente sono contenta. Questa non mi dispiace, questa neanche mi dispiace. Tra l'altro ho la LIL di queste, per cui sarebbe anche una bella coppiata, sorella e sorellina, no? Anche questa con i bigotini, ci piace. Questa l'abbiamo trovata, VRQQT. Ragazzi, siamo qua, siamo. Cioè, ce la faremo, speriamo. Speriamo di non trovare un'altra Drip in BB, perché se no, ragazzi, eh, già sappiamo, no? Ciao, dai, partiamo con l'apertura, che abbiamo già parlato troppo stamattina. Tiriamo via il coso qua e andiamo ad aprire. Aspetta, perché qua è sempre più dura questa carta, qua. Sempre più dura. Qua se non si sta attenti, ci si taglia pure, eh. Io non ho nessuna intenzione di tagliarmi. Ecco qua. Tararara. No, ragazzi, cos'è? La regina del castello? No. Queen of the castle? No. Queen of the castle? No. Un'altra Madame Queen? No, come si chiama lei? Sì, Tamara, non farti prendere dal panico. Madame Queen? No, ragazzi. Oh, un'altra Madame Queen? No, non è possibile. Ho capito che sei rara, figlia mia, però non si può. Magari è quell'altra rara. Perché fa parte dello stesso... Vediamo, dai. Oddio. Ragazzi, c'ho già l'ansia. Io sapevo, stamattina dovevo aprire i confetti. Mi sta venendo l'ansia di aprire i confetti. Mi sta venendo. Cioè, dai, apriamo quest'altro strato qui. Un'altra doppia, ma porca miseria. Ma io, ma perché io c'ho l'abbonamento con le doppie? È una rara... Eh sì, per forza che è rara, Tamara. Se è un'altra di quelle, è rara per forza. Oddio. Niente, ragazzi. Anche questo la mettiamo sul post. A parte che Sleeping BB non l'ha voluta nessuno, poi. C'è ancora di là che sta dormendo come non l'ha voluta nessuno, Sleeping BB. Vabbè. Vabbè. Che vi devo dire? Se vedi che ce l'hanno tutti sta Sleeping BB. Poi. Apriamo. Sì, abbiamo trovato gli adesivi. Sì. Ragazzi, a me mi scoccia terribilmente che ho trovato l'altra doppia, eh. Non so se vi ne state accorgendo che mi sta scocciando a trovare questi doppi. Mi sto proprio scocciando. Ecco. Anche il tatuaggio è lo stesso, come potete vedere. Cioè, proprio lei, eh. Ma porca miseria. Ma con tutte quelle che devo trovare ancora. La pazienza. Silente, anche te non è che combini niente. Mi porto Harry, altro che. Mi riporto Harry, vi riporto. Ah, vabbè. Allora, vediamo qua com'è la storia. Tiriamo via il punto qua. E apriamo il primo buchetto. Eccoci qua. Tiriamo fuori il sacchettino. Adesso qua vediamo subito, ma io lo apro alla fine. Chiudiamo. e si parte. Gira la ruota. Gira la ruota. Tira fuori i sacchetti anche tu. Aiuto. Ecco. Lasciato. Mettiamo la lantellina qua. Tamara, ma che stai a fare stamattina? Scusate ragazzi, è che quasi è perso un pezzo. Senti, ma chi se ne frega di quello? Gira la ruota. Gira la ruota. Vedrai che ti diverti anche tu. Stamattina, guarda, un divertimento che ti dico con queste doppie. Gira la ruota. Senti che ruota. Che ti portare a fortuna anche a te. Te lo dico io. Vedi, la fortuna che c'ho io stamattina è una cosa incredibile. Guarda. Ecco, un altro pezzo che si è rotto, ma a noi non ci importa. Perché tanto quella è la fine che fa. Vabbè. Apriamo Questo sacchettino che c'è l'accessorio, no? E sappiamo già. Guarda, c'è la collanina. Vediamo se l'altra ce l'ha la collanina. Magari l'altra ce l'ha, non si vede. Porca miseriaccia. Vediamo, vediamo. Qua ci sono le scarpette. Mi sapevo che partivamo dal di Berone. Stavolta ho le scarpe correttive che diceva Marco, eccole qua. Cioè, no ragazzi, io non ho parole. No, aspetta. Il fiocco è leggermente no in lei, eh. Tamar, sta cercando di tutto per... Ma è lei. Porca miseria. Di Berone. E il vestitino. Cosa è successo a sto vestitino? Andato in candeggina. Guardate quanto è più rosa il mio. Ho trovato tutte e due le versioni. Volete dirmi che mi devo ottenere anche questa perché è l'altra versione? Che devo fare? Ho trovato tutte e due le versioni di Madame Queen. Cioè, aspetta che qua adesso succede un macello. Aiuto. Gira la ruota. Gira la ruota. Aspetta che tiriamo sui coriandoli che ci possono servire per il nostro diario. Sicuramente li useremo. E guarda così si fa molto più in fretta a tirarli su. Quando non c'è tutto il casino in mezzo. Ah, che bello. Due secondi e già fatto. Ah, che bello. Cioè, ma il fatto che ho trovato il vestito sbiadito. Non lo posso mettere in vendita perché il vestito è sbiadito? Non lo so ragazzi. Ditemi voi. E voi sapete tutto. Vediamo se lei è uguale. Lei è uguale. No. Anche i suoi capelli sono sbiaditi. Anche gli occhi sono sbiaditi. E' proprio la versione sbiadita. Cioè, ragazzi, non so cosa mi dite. Beh, io sinceramente di due non so cosa farmene. Però se voi mi dite che... Boh, non lo so. Non lo so ragazzi, non lo so. Vediamo lei che cosa fa intanto. No, di averne due sinceramente non me ne faccio un granché. Questa fa uguale a lacca. Fa un paio di... Cosa fai tu? Non si capisce bene. Aspettate che... L'affogo per bene perché... Non si capisce che cosa fa. Allora esce qualcosa dal di dietro come potete notare. Che bella l'acqua qua. Eh, vedi? Però... Fa la pipì. Sì, fa la pipì. Eeeh, che gettone! Eeeh, che gettata! Eeeh, l'ha fatta tutta, sì! Brava Madame Queen, guarda qua, va, che bella! Con i glitter, lasciate un po' di glitter. Va bene. Cioè, ma allora io che cosa devo farci con questa... Con questa Madame Queen qua? Cioè, carina pure lei, per carità. Però, ragazzi, è... E' più chiara, è più... E' più sbiadita. Adesso non so se è un problema di colorazione... O se va tenuta così. Cioè, ma io non lo so. Due... Due rare... Diciamo... Sì, perché la Madame Queen qua è rara. È rara, sì. È rara e... Della stessa. Eh, vabbè. Cosa vi devo dire io, ragazzi? Avrei preferito trovare l'altra, devo dire la verità, eh. Adesso le mettiamo il gillerino. Se riusciamo a mettere questo gillerino... Riusciamo, Tamarinda, a mettere il gillerino? Non mi dubbi, stamattina. Aiuto. Ok. Ce l'abbiamo fatta, sì. Aspetta perché le sta stretto. E ti sei inciottata sopra, sto giro. Oh, santo cielo. L'altra le entrava meglio. Poi... Eh, è proprio la versione più chiara, ragazzi. Allora, io la metterò in vendita sul gruppo. Perché comunque... Cioè, di averne due uguali... Anche le scarpe hanno qualche problema. No. Di averne due uguali, ragazzi. Anche se questa è un po' più sbiadita di questa... Questa... Questa non è... Cioè, sì, ce li ha i bottoni, si intravedono a malapena. C'è il colletto diverso. Adesso le mettiamo anche la... La collana. Ecco. Questa si fa molto più in fretta a metterla. Beh, io mi tengo questa, comunque, ragazzi. Perché il rosa a questo mi piace molto di più. E questo la metto in vendita. Sì, perché di due uguali... Sinceramente... Non me ne faccio nulla. Ok, non è proprio uguale. Però, insomma, è sempre lo stesso personaggio. Più schiarito. Per cui, niente. Io adesso la metto in vendita. E vediamo se a qualcuno interessa. O se la scambiamo con quest'altra rara. Ah, visto che mi manca. Va bene, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Io vi saluto con le mie due madame qui, qua. E alla prossima... Oddio. Le gemelle di Shining. Mi è venuto il Flash. Ci sono altri due gemelle di Shining. Ne abbiamo qua, oddio. Alla prossima!